Lo definisce un incontro della generosità, Giorgina Specchia, direttore dell'unità operativa di ematologia con trapianto del Policlinico di Bari. L'ecografo portatile e dono del Rotary Club di Putignano sarà utilizzato dai pazienti ricoverati nell'unità sterile del trapianto. Durante il trattamento e soprattutto durante la fase del trapianto non possono uscire dal reparto, per cui avere la disponibilità di strumentazioni che effettuino le indagini al letto del paziente è veramente un punto fondamentale nel percorso dell'assistenza di questi pazienti. Le associazioni hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita di questi pazienti in un reparto, quello di ematologia del Policlinico, che in questi anni è cresciuto. A noi era arrivata le voci di questa necessità. Siamo stati ben felici di poter realizzare questo progetto perché il nostro scopo è il bene comune. Noi abbiamo questo punto di riferimento come filosofia di vita del Rotary. La nuova frontiera della cura di queste neoplasie è nei farmaci cosiddetti intelligenti? Assolutamente sì. Infatti da quando abbiamo a disposizione alcuni di questi farmaci intelligenti, alcuni pazienti per alcune malattie ematologiche, non ancora per tutti, abbiamo la possibilità di curarli senza arrivare alla chemioterapia tradizionale, standard storica, perché questi farmaci colpiscono specificatamente quelle cellule che presentano queste alterazioni cromosomiche, queste alterazioni citogenetico-molecolari.